Fabrizio Bellaccini, ormai perugino da oltre 40 anni, ha sin da ragazzo scritto poesie che lasciava con indifferenza nei cassetti delle varie case che via via ha abitato. Con l'arrivo della pandemia e quindi del lockdown, Bellaccini ha avuto l'occasione di riordinare le sue carte e dopo un confronto con Stella Carnevali e col maestro Anton Carlo Ponti ha deciso di pubblicare una raccolta di poesie. Ne è venuto fuori La notte di nessuno, un'antologia poetica che è stata presentata venerdì scorso presso la Sala della Vaccara di Palazzo di Priori a Perugia. Un'antologia è una raccolta di poesie che io ho scritto in vari periodi ed anni della mia vita, è un dipanarsi di storie interiori, di situazioni che a volte hanno motivo e nascono per rapporto umano, a volte per rapporto amoroso. Sono comunque una parte nella quale io ho cercato di mettere sempre con sincerità a nudo le mie introspezioni, le mie osservazioni di una vita che a volte come per tutti è bellissima e a volte ci lascia la mano in bocca.